Gaeta batte Arpino 3 a 1 e questo è il risultato della quarta giornata di campionato allo stadio Riciniello, una partita mai in discussione, una partita che il Gaeta avrebbe meritato di vincere con ben altro margine di vantaggio. Un Gaeta che si è presentato subito al via deciso a vincere la gara e al diciannovesimo Cano sbloccava il risultato con un gran gol, calciatore sicuramente di categoria superiore, lo spagnolo attaccante del Gaeta. Gaeta che poi controllava la gara, un calcio di rigore sacrosanto assegnato dall'arbitro veniva tolto dall'assistente per un chiaro fallo in aria, l'assistente invece suggeriva all'arbitro che accettava il suggerimento purtroppo per lui di concedere una punizione dal limite e così era. Il rigore che però era soltanto rimandato al 45esimo del primo tempo, Pepe lo segnava portando la squadra sul 2 a 0, un secondo tempo poi dominato soprattutto dal gran caldo, quasi 35 gradi sulle tribune e sul campo al Riciniello. La faceva da padrone nella ripresa con le squadre che piano piano si adeguavano accontentandosi del risultato, almeno questa era l'impressione, mentre l'arpino al 91esimo provava a riaprire la partita con un gol in mischia. Gaeta che però non ovviamente si dava per vinto e immediatamente rimetteva la palla al centro e con Quintana entrato in campo soltanto 5 minuti dalla fine segnava la terza rete che chiudeva definitivamente il match. Dunque un Gaeta bello che rispondeva così con una bella prestazione alle note vicende penali che hanno visto protagonisti dirigenti della società della polisportiva Gaeta. Quindi Gaeta batte Arpino 3 a 1, le reti segnate da Cano, Marco Pepe su calcio di rigore e Quintana per questo successo in scioltezza che porta la squadra in una posizione di classifica sicuramente più consona. E' tutto per la partita del Gaeta, promozione di Girone D, quarta giornata, un saluto a tutti gli ascoltatori da Erasmo Lombardi di Perna.